Andiamo a presentare il lavoro di tanti enti che si sono messi in gioco in questa che secondo me è una sfida importante. Questo patto educativo vuole essere sia una rete come quella dei pescatori che crea uno spazio e porta con sé e la rete dei trapezisti che è sotto e se qualcuno cade lo aiuta. Ecco, io credo che noi davvero dobbiamo essere questa rete. Il nostro è un territorio vasto dove effettivamente da soli è difficile arrivare dove c'è veramente bisogno. Questo patto è stato anche possibile grazie a un progetto che si chiama Non Uno di Meno. Aveva appunto come sottotitolo per educare un bambino ci vuole un villaggio. Questo progetto è servito proprio a creare nuove reti di condivisione. Un passo ulteriore nella creazione di fiducia tra le donne. Oggi l'educazione è vista tendenzialmente come la distribuzione e sviluppo di competenze. Il problema dell'educazione non è quello. Il problema dell'educazione è formare la persona. Grazie. 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 Grazie.